Sono arrivato di corsa, perché il consiglio si è prolungato oltre al previsto. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro. Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la novità d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà! Siete ancora e doci come sempre dei poveri comunisti!